Buongiorno Milano da Palazzo Marino. Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso? Io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche. Però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti. Le immagini di ieri lungo i navigli sono vergognose. Ora è anche un po' per me deprimente dover rispiegare qual è la situazione ma nel mio lavoro ci sono tante cose che si debbano fare e quindi ve lo ridico. Noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario e l'abbiamo visto quanto ha toccato questa città la pandemia ma siamo in una profondissima crisi socio economica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare a lavorare questo è il punto non è un verso non è una voglia a riaprire è una necessità e io sto e starò sempre dalla parte di quelle famiglie che fanno fatica arrivare a fine mese. Sto dalla parte di quelli che vanno a lavorare non a divertirsi per portare a casa per le loro famiglie quanto necessario e non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina uno vicino all'altro mettano in discussione tutto ciò. Potremmo essere inconsapevoli non pienamente consapevoli due tre mesi fa e anch'io lo sono stato ma ora no dopo tutto quello che abbiamo visto per cui guardate io non sono un politico da metafore sono un politico da atti o le cose cambiano oggi non domani e non è un penultimatum è un ultimatum o le cose cambiano oggi o io domani come al solito sarò qua a palazzo marino e prenderò provvedimenti chiudo i navigli piuttosto che chiudo lo sporto e poi lo spiegate voi ai baristi perché il sindaco non gli permette di vendere e lo spiegate voi questa è la realtà poi io mi pido le mie responsabilità stasera ci metto più vigili ma ve lo ripeto non è un guardia e ladri non è un gioco non possiamo permettercelo in una città da un milione e quattrocento mila abitanti e mille e settecento chilometri di strade per cui usiamo la testa tutti anche perché senza testa c'è l'uno per cento di milanesi e quello sono l'uno per cento io non permetterò che l'uno per cento metta in difficoltà il 99 per cento vediamo domani mattina com'è la situazione grazie a tutti